Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signori Presidenti dell'Associazione Aisla e del Centro Clinici Nemo, Presidente della Fondazione, illustri ospiti, sono breve perché i tempi sono stretti per una nobile ragione, il Presidente si è voluto trattenere nel reparto con i malati di SLA e questo ha rallentato un po' i tempi e sono molto lieto che questa parte cerimoniale possa essere un poco sincopata per questa nobile ragione, la sua volontà di trattenersi con loro dimostra come il confronto con la malattia colpisce la sensibilità di chiunque e è un'occasione molto importante questa, è un'occasione nella quale realtà economiche e industriali si associano alle associazioni dei malati, a chi sensibilizza l'opinione pubblica su questi temi e all'attività di ricerca e di cura che si svolge in questo clinico per fare una cosa molto importante, concentrare lo sforzo sulla ricerca. La storia della medicina, la storia dell'uomo dimostra che le malattie sono come le casse forti, nessuna è inviolabile, è un problema di tempo e di risorse ma prima o poi si arriva al bandolo, noi farlo però e impegnarsi in questo, investire in ricerca significa avere fede, avere fede nella capacità, nella forza dell'essere umano di sconfiggere le malattie grazie alla sua intelligenza, al suo impegno e alla sua determinazione e concludo con una sola osservazione. Credo che in questo, io confido che la biobanca che viene messa a disposizione agevolerà la ricerca, sarà un supporto e ringrazio le istituzioni private di volontariato che la hanno in particolare promossa insieme agli imprenditori che con noi la finanziano. Aggiungo solo una cosa, da parte di coloro che oggi sono colpiti dalla malattia e che si danno, compiono queste iniziative così intense, c'è una grandissima generosità perché loro sanno che stanno seminando per altri, sanno che difficilmente la ricerca che oggi si svolge offrirà a loro una cura. Sarebbe anche facile la tentazione di abbandonarsi all'idea, io sono stato colpito per il futuro, il problema sarà di qualcun altro. Invece essi offrono la loro testimonianza, il loro impegno, offrono la loro sofferenza per dare una chance a chi verrà dopo e fare in modo che questa malattia venga sconfitta. Quindi grazie a tutti, è un onore per la nostra cattolica essere parte di questo progetto e grazie signor Presidente di essere qui con noi.